Il City vuole Charlie. Charlie, è una grandissima occasione. Lo so. È una cosa straordinaria. Ora devi diventare un uomo. Non sei felice, vero? Sto bene. Non come prima. Ci sono cose più importanti del calcio. Che cos'hai? Niente. Invece sì, sei strano. Non è vero. Allora perché mi ignori? Charlie, non giocherà mai più una partita. Dovresti solo vergognarti. Credevo fosse acqua passata. Non è grave. Davvero? Non fai altro che dire, firmalo, firmalo, firmalo. Non me ne frega niente del calcio. Io non voglio più giocare. Non firmerò quel contratto, capito? È una cosa seria. A Charlie serve un aiuto. Lo so. Lo so. Lo so che è duro. Dura. Impossibile. Tu non puoi far parte di questa famiglia se non ami tuo figlio. Non dirmi che non voglio bene a Charlie. Lui ha scelto una vita di sofferenza e tu lo stai incoraggiando. Mi ripeti continuamente che farebbe di tutto per me che mi vuole bene. Perché? Allora non posso essere quel che sono. E tu chi sei, Charlie? E tu chi sei. E tu chi sei. E tu chi sei. Grazie a tutti